Arriva nella prima trasferta in calendario il riscatto dell'Arezzo calcio femminile reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale con la Ternana che gli era costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Le Amaranto portano a casa il bottino pieno rifilando tre gol alla Pistoiese. Il primo gol Amaranto arriva con Orlandi al 29esimo su calcio di rigore conquistato da Verdi. Si va a riposo sull'1-0 per l'Arezzo. Nella ripresa dopo appena 5 minuti è Vicchiarello a firmare la seconda rete Amaranto sempre dal dischetto dopo un fallo in area di Piddu su Ceccarelli. Nei minuti di recupero a compimento di una prestazione pressoché impeccabile l'Arezzo cala il Tris con un gol della Ivanova e porta a casa i tre punti confermandosi ai vertici della classifica.